Quando lo dico mi sento sempre un po' in colpa, però io ora mi definisco un po' in pensione. Cioè da quando avevo 15 anni e 22, praticamente io, tutto quello che ho fatto è stato produrre contenuti e in qualche modo lavorare, quindi. Ora tuttora lavoro, con intensità diversa e soprattutto con una metodologia completamente diversa. Ora sono più interessato a quello che è l'esperienza di vita in generale. Quindi il mio lavoro ora è cercare cose fighe da mostrare. Dieci giorni fa ero alle Canarie, c'è la possibilità di andare in sottomarino. Chi conosco che ha fatto un giro in sottomarino? Nessuno. Andiamo a farci un video. L'Oriente Express è una cosa interessante che in primis interessa a me e quindi ci vado a fare un contenuto. Il mio lavoro è far sì di avere la vita più interessante che riesco a concepire. Però è un impegno talmente piacevole che io mi ritengo un po' in pensione.